Premio Regione Sicilia 2023, Memoria Lantonino, Cascio, 14 cavalli e anziani sul doppio chilometro alla via. Uno Borgo-Gal, Alessio Di Chiara, due Brest dei Greppi, Gennaro Amitrano, tre Bixio, Gaetano Di Nardo, quattro Asciano, Luciano Messineo, cinque Belfagorfi, Lorenzo La Rosa, sei Artez, Dario Di Maio, sette Cris per Antonio Di Nardo. In seconda fila, otto, Zadig del Ronco, Gasparello Verde, nove, Global Trustworthy, Vincenzo Luongo, dieci, Zap di Girifalco, Giuseppe Porzio, undici, Corsaro Nerofonto, Antonino Pecoraro, dodici, Bonvilgifon, Tommaso Lorenzo, tredici, Vittorio Nordfron, Enrico Maisto, quattordici, Boccadamo, Andrea, Buzitta. Macchina che accelera. Partiti. Brest dei Greppi e Crisper sono i due più solleciti nei confronti di Boccadamo. Poi Belfagorfi, quindi Global Trustworthy, ben partito dalla seconda fila con accanto Artez, mentre navigano in mezzo alla pista Bonvilgifon e Boccadamo, tra quelli più attesi, anticipati nelle mosse da Bixio. 13,3 il lancio per Crisper che ha preso la testa nei confronti di Brest dei Greppi, avanza ora all'esterno Bonvilgifon che risale il gruppo trascinandosi Global Trustworthy mentre ha sbagliato Boccadamo. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, corre al comando Crisper Bonvilgifon che rimane così allo scoperto, Brest dei Greppi secondo in corda, mentre Artez è tenuto in terza ruota da Belfagorfi, punta in avanti in quarta corsia addirittura Bixio, 43,6 per i primi 600 metri di corsa. Bixio che prosegue nell'avanzata a largo ma trova percorso durissimo, intanto Bonvilgifon ha apparegliato completamente Crisper e i due passano i primi 800 metri in 58,6. Passaggio davanti alle tribune con Crisper che guida con accanto Bonvilgifon, poi Brest dei Greppi, quindi Belfagorfi, Bixio che in terza corsia si deve arrendere dopo percorso impossibile il chilometro, se ne va sul piede l'1,13 con Bonvilgifon che continua ad attaccare Crisper e passa già all'imbocco della piegata conclusiva, Belfagorfi che avanza all'esterno portandosi in scia Global Trastorti, quindi Corsaro Nerofont che è seguito nelle sue mosse da Zap di Giri Falco, c'è un 14 per la curva di destra con Bonvilgifon che ha preso la testa e ora cerca di scappare quando siamo ormai a 600 metri dalla conclusione, da metà della curva di destra fino a metà della retta opposta in 14,5, il parziale di Global Trastorti che aggira in breve, Belfagorfi e si porta a diretto contatto di Bonvilgifont, le si pone in scia, si è liberato dalla corda, Brest dei Greppi che si muove in anticipo su Corsaro Nerofont, la rete di line 14,5, Bonvilgifont a guardarli in faccia, Global Trastorti che rifiata in scia ma non sembra più di tanto produttivo, a largo prosegue Brest dei Greppi in mezzo alla pista, Corsaro Nerofont la piegata conclusiva con Bonvilgifont in vantaggio, Brest dei Greppi che attacca al suo esterno, poi Corsaro Nero e ancora Global Trastorti, Brest dei Greppi che passa nei confronti di Bonvilgifont, Brest dei Greppi che viene a vincere dopo percorso al bacio, bacio che lancia Gennaro Amitrano alla tribuna, il successo in bellissimo stile del Sauro, allenato dalla famiglia Caramia, Gelormina di Fino alla proprietà, mentre c'è stata una caduta nelle retrovie, il successo meritatissimo e netto nel finale per Brest dei Greppi, il figlio di Expo a Caffa, netissimo alla meta, seconda Bonvilgifont al terzo Global Trastorti. Grazie a tutti!